E' tornata ieri al lavoro al Palamartola, la Sir Safetisusa Perugia, dopo due giorni di riposo concessi dal coach Anastasia all'indomani della sconfitta nella semifinale di Coppa Italia contro Piacenza, i Block Devils hanno ripreso possesso dell'impianto di Pian di Massiano in vista dei prossimi impegni. Il tecnico ha analizzato insieme agli atleti la prima battuta d'arresto stagionale, lo ha fatto ponendo attenzione sulle situazioni di natura tecnica e tattica che non hanno funzionato, sempre con la consueta serenità e con la consapevolezza della bontà del lavoro svolto finora, ricaricando il gruppo in vista degli impegni futuri. Il mese di marzo, che si apre oggi, è infatti estremamente importante per la squadra del presidente Gino Sirci. L'obiettivo sfumato della Coppa Italia non deve far dimenticare il percorso fin qui esemplare di Perugia, che può vantare già due coppe in Bacheca in questa stagione e che è attesa da una finale di stagione con altri due importantissimi obiettivi, la Champions e la Superlega, da cercare di raggiungere. In particolare marzo darà il via ai play-off scudetto, che a quelli della massima competizione per club a livello continentale.